Dopo l'istituto alberghiero virtuoso, ieri il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è stato costretto a fermare le elezioni in presenza anche in un altro importante edificio scolastico cittadino. Tutti in dad, da oggi e fino all'11 marzo, gli studenti del liceo classico e scientifico De Santis di Torrione. Come si legge nell'ordinanza firmata dal primo cittadino di Salerno, sono troppi casi tra allievi e docenti per consentire la continuazione della didattica in aula. Salerno città è tra i comuni che resiste alla scelta, altrove già attuata di chiudere alla presenza le scuole di ogni ordine e grado. Oltre l'agronocerino sarnese, ieri hanno deciso di fermare le elezioni in presenza anche i sindaci di Pietri sul mare, Colliano, Capaccio Pestum. Nel capoluogo, ieri il bollettino dell'unità di crisi ha rilevato 47 nuovi casi positivi. In totale, nel mese di febbraio, siamo a quota 1.314, 11 i decessi. Numeri certo che non fanno stare tranquilli anche sul fronte della scuola dallo screening, però effettuato sulla popolazione, studenti, docenti e personale ATA ancora in corso, non sono per il momento emersi dati allarmanti al punto da determinare una scelta drastica di chiusura totale. Ma probabilmente il sindaco Napoli attende un segnale dalla regione, dove è noto il pressing che il governatore Vincenzo De Luca sta facendo sul governo centrale per valutare anche l'impatto delle varianti e arrivare a chiudere definitivamente le scuole in dad. Una decisione attesa e sostenuta naturalmente dal numeroso gruppo social Genitori Cidad che in massa stanno postando sulle pagine Facebook dei ministri competenti la frase «Scuole di ogni ordine e grado in dad subito», a partire dal profilo di Maria Stella Gelmini, che ieri aveva postato una foto dell'incontro con i presidenti di regione, propria in vista del prossimo DPCM.